Ciao e bentornati su Necessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Telademon. Che cos'è Telademon? Telademon è una visual novel, lo so, sì, avete già paura, ma io sono sempre a ricerca di delle visual novel che abbiano qualcosa di diverso da raccontare. Qualcosa, un modo diverso di farle visual novel, perché secondo me il potenziale c'è sotto, non è ancora stato sfruttato al 100%. Molto spesso vediamo su questo canale delle visual novel che vengono mischiate da altri geni, in questo caso Telademon è una visual novel pura, non c'è già tutte le meccaniche della visual novel, quindi c'è un sacco di testo da leggere, le immaginette statiche, le scelte da fare, eccetera, eccetera. Il racconto è una storia molto complicata di quattro personaggi differenti, quindi noi andremo, seguiremo le geste di quattro personaggi differenti. In una, in un 1920, mistico, con i demoni presenti, con una variante urban fantasy del 1920, dei quattro personaggi che contro... dei tre personaggi, ho detto quattro, intendevo tre. Tre personaggi che controlleremo, alcuni saranno demoni, alcuni no, alcuni chissà. non vi racconto troppo la storia, come va avanti, perché uno dei piaceri della visual novel è leggere, eseguire la storia, leggere la storia, ma sappiate che, in maniera molto interessante, poi vediamo se funziona o no, si discosta dalla classica estetica delle visual novel e adotta un'estetica molto più occidentale rispetto alla classica estetica anime, la classica estetica anime manga delle visual novel, che hanno origine, giustamente, in Oriente. Cosa funziona di questo teladimo? Ve lo dico subito, l'estetica funziona. Da una ventata di novità alla cosa, è un'estetica curata, molto carina, benissimo, e in più, non essendo l'estetica classica della visual novel, devo dire che è piacevole affrontare questo genere all'interno di un'estetica, non con gli occhioni e i tettone e i capelli colorati. Funziona il fatto che teladimo utilizza, questo non ve l'ho detto prima, ve lo dico ora, utilizza molto spesso le scelte a tempo, vuol dire che noi, se le attiviamo, possiamo anche disabilitarle e avere la visual novel classica con tutto il tempo che volete, ma se le abilitiamo ci saranno alcune scelte che andranno fatte entro un certo tempo. La cosa è molto interessante perché sulle scelte visual novel fa un po' il centro dei suoi punti di forza, perché le scelte cambiano la narrativa, in alcuni casi cambieranno i dialoghi, in altri casi cambieranno proprio la trama, ovviamente in meno casi perché sviluppare una narrativa ramificata è molto costoso e molto complicato. Dicevo, proprio sulle scelte fonda le cose che funzionano, in alcuni casi le scelte anche in maniera molto interessante cambiano il nostro personaggio, cioè noi definiamo chi è il nostro personaggio scegliendo quali sono le sue reazioni a certe situazioni, a certe cose. Questo ci permette di avere un certo controllo sulla narrativa e non trovarci con i personaggi precostruiti che può assolutamente essere interessante in questo formato. Quali sono i problemi di Telademon? Telademon è una visual novel classica, capiamoci, ai problemi della visual novel classica, il problema della visual novel classica e cioè che è molto molto prolissa, tende a sprecare le parole perché le visual novel, a differenza di altri giochi che si misurano in ore di contenuto, le visual novel si misurano in parole scritte e questo è un grosso problema delle visual novel che avrebbero tanto bisogno di qualcuno in grado di fare delle sintesi di quello che viene detto e l'altro problema purtroppo per i non anglofoni e che l'inglese con il quale ci viene raccontata questa visual novel, l'inglese che troveremo a schermo e che dovremmo leggere, è piuttosto difficile. Sappiatelo, sappiate che se non avete una padronanza più che buona dell'inglese, con Telademon farete fatica a seguire quello che sta succedendo a schermo. Allora, come vi do un'opinione? Vi do un'opinione come visual novel? Vi do un'opinione come gioco in sé separato dal suo genere? Come visual novel è una visual novel discreta, non è malaccio mi sentirei di consigliarla se vi piacciono le visual novel. Come gioco in sé è una visual novel e non si discosta purtroppo per niente da quelle che sono i problemi, le meccaniche, tutto il costrutto delle visual novel. Quindi se vi piacciono le visual novel tenete d'occhio questa cosa qui, se le visual novel non vi piacciono questa non è la visual novel che vi farà rivalutare questo genere. Costa, non lo so, a volte mi dimentico di scrivermelo quanto costa e quindi andare a vedere su Steam in diretta con voi, tanto la recensione era breve. Costa 13€ su Steam, è stato sviluppato dai Sun Labyrinth, va che bravo che sono a leggere Steam quello che mi dice. Io vi ringrazio di aver seguito questo episodio e vi invito, con questa curiosità, se siete arrivati fin qua e avete seguito la recensione fino alla fine, a scrivermi se avete giocato una visual novel che vi è davvero piaciuta. Su PC, non ditemi quelle su console che c'è più scelta, su PC che c'è meno scelta e quindi consigliamoci una visual novel di te. Se siete di fan delle visual novel ditemi una visual novel per far cambiare idea a chi non gioca alle visual novel.